Buongiorno a tutti, questa canzone l'ho scritta io circa un anno fa, è in mi minore e a me piace molto perché quando l'ho scritto ho pensato a una mia amica, una mia amica che aveva dei problemi con il suo fidanzato e quindi questo, eccola qua, speriamo che vi piaccia. Cosa fare adesso che sei rimasta sola e guardando quelle foto poi la notte ma ti scende e ti cade proprio l'ora e l'ora non sei per guardare e ti gira e ti rigira ma non sai che fare leggi i canti, i balli, i stili ma non tutti nei palci, come in quella stanza, i cordi, i soldi ma non pensi al domani, i messaggi sono molti con te, preghi ti chiedo che ti ascolti ma non non c'è, che ti guardi la social quella vicina a chi, quella tocchi la ritocchi assaporando che non è la vita, che ti racconto e non ti auguri semplice che avvicini alla finestra, guardi il cielo oscuro e la notte ti avvicina, triggi di me il telefono a una schiena cosa accadrà stanotte questa sera se il mio nome è con te piove fuori, piove dentro, piove su di te e ti metti a piangere vicino al cammino ti siedi marco, sedia stagna, spera compagnia chiamerà domani, chiamerà domani è una cosa che non vuole sentirti e anche lui sta male e soffre forse ora fuori, la finestra come te che guarda il cielo e piange portare le tue mani in mani c'è il calore che vorrebbe come te buonanotte amore buonanotte amore mio buonanotte amore ok eccola qua spero vi sia piaciuta e niente mandate anche dei messaggi se volete in tutti i sensi così un abbraccio grande a tutti ciao ciao